Lo miracolo di Santa Lucia, mi rissi me nanna quando era nica, ora ti conto una storia antica, in capoliammi mi fici a settare e a raciaraccio si misa a contare. Ci fu una volta a Siracusa, una carestia troppo dannosa, pane uncinnera e tante famiglie non rinascinano a sfamare i figli, ma pure un mensa alla disperazione non ci mancava mai la devozione e addumannavano a Santa Lucia che li salvassi della carestia. Un bel giorno arriva di lontano, rincia lo porto siracusano, una nave carica di formento, a liberale ridù tormento, per i cristiani la gioia fu tanta che griravano viva la Santa, per chi fu grazie alla santa cessione che aveva arrivato da benedizione. Tutti accorriano alla marina, ma era formento, non era farina, e con l'opetito che non faceva vintare non c'era tempo di rire a mangiare, per mettersi subito in salvamento avevano accocere lo stesso formento, e più la forma accoccia cavia a cominciare a chiamare la cucchia. La buona nuova arriva lontana, e più sta martire siracusana, fu accosti grandi la venerazione che ci fanno nascere in una tradizione. Passa lo tempo e la carestia, e resta l'usanza per Santa Lucia, rinfare pane ed un coci ripasta, e di mangiare la cucchia e basta. Ma lo sapemo, ciboli picca, e l'usanza di scarsa diventa ricca. A ognuno ci venne la bella pinzata a ripripararla più elaborata, che ci mettia il bianco mangiare e con il vino cotto ci fosse miscare, che ci voleva l'umeli rifico e tante altre cose che manco ti ricco. Ma io volessi sapere, alla fine non ne spuntarono le belle arancine, e ma domani, di quali mano nascero le panelle e le risattiano, e mentre mia nonna si sforniciava, a mia luce stomaco come mormoriava, e mi ricordo che ci avessi detto, no no, zittemone, cacciavo i petito.